Lo sapete che il miglior deterrente per un criminale è il cane? E farebbe così bene a Stan! I cani hanno bisogno di uno scopo! I cani impegnati sono più sani, felici e vivono più a lungo! Ah, non lo so, tesoro! Stan non è proprio un cane da guardia! Possiamo addestrarlo! Ti assicuro che impara in fretta! Guarda, gli ha insegnato delle cose! Stan, seduto! Bravo! Abbaia! Bravo! Dammi il cinque! Wow, lo insegna anche a me? No, credo di no! Ok! Sì, Stan è meglio di un sistema d'allarme che non sarei in grado di far funzionare! Davvero? Ho la sensazione che fosse un sì! Sì! Può essere questo il mio scopo! Fare il cane da guardia! Molto meglio di quando ho fatto il modello per piedi! Il prossimo articolo, J353, una scarpa da donna aperta davanti! Perché questo cane è ancora qui? Grazie, Everi! Fare il cane da guardia è un sogno che diventa realtà! Senti, Stan, ho detto che saresti stato bravo! Mi sono esposta per te! Ora dimostra che sei all'altezza! Non ti deluderò, Everi! Diventerò il miglior cane da guardia che ci sia mai stato in questa casa! Quanti ce ne sono stati, tanto per capire quanto dovrò impegnarmi! Scusa, ora devo andare ad allenarmi! Sarà pronto!